buongiorno sono il professor roberto miano responsabile della sezione di urologia di questo polimboratorio start medical sono diciamo all'università di roma tor vergata come centro diciamo di lavoro principale e lavoro da ormai 15 anni presso la fondazione poliglinico tor vergata ho una diciamo una serie di passioni all'interno della mia branca urologica che vanno diciamo dallo studio della diagnosi e terapia delle malattie prostatiche ipertrofia prostatica e tumore della prostata due patologie diciamo di purtroppo di alta frequenza in più la mia vera diciamo specialità è la cura non solo terapia ma anche e soprattutto prevenzione della calcolosi urinaria forse uno dei problemi principali che portano il paziente al pronto soccorso con quei dolori diciamo di colica renale che poi molti si ricordano anche di questo mi occupo presso la fondazione poliglinico tor vergata sia in termini di assistenza ma soprattutto anche in termini di ricerca vorrei portare qui alla mia esperienza in questo poliambulatorio proprio in queste in queste materie naturalmente coprendo poi tutta la gamma naturalmente delle patologie urologiche il progetto start medical è un progetto molto ambizioso mi è subito piaciuto fin dalla sua fin da quando me l'hanno proposto è un progetto che mi piace particolarmente perché mette il paziente al centro della dell'attenzione così come dovrebbe naturalmente essere e quindi noi siamo qui a disposizione naturalmente di tutti per cercare di aiutare per quanto naturalmente possiamo e nelle nostre possibilità per cercare di risolvere i problemi della della gente della diciamo di questa area delle aree limitrofe di coloro che vogliono diciamo rivolgersi qui al centro naturalmente io posso dare appunto tutta una serie di contributi derivanti da un'esperienza ormai di circa 15 anni di assistenza nel mondo urologico e quindi sono qui a disposizione per cercare di aiutare tutti voi qualora ne avesse necessità vi aspetto naturalmente qui presso gli spazi della start medical per anche per un semplice colloquio per un suggerimento e rimango quindi a vostra disposizione per qualsiasi necessità vi aspetto